come può un presidente non essere un attore ha sentenziato ronald reagan è una domanda forse retorica detta da un noto attore di un certo successo di western e anche di alcuni curiosi film comici come il ronald reagan due volte presidente a california due volte presidente degli stati uniti originariamente democratico poi diventato repubblicano grande personaggio piacere o meno ma è ormai morto oggi però insomma un grande personaggio ora è qualcosa che forse ci sfugge un attimo come reagan abbiamo il caso di schwarzenegger due volte presidente della california non si può presentare alle elezioni perché non è statunitense non è nato negli stati uniti anche se ne ha acquisito la cittadinanza ci sono tanti esempi di questo tipo è facile sempre anche sottovalutare il fatto che trump è un personaggio che prima di diventare presidente era sostanzialmente un personaggio di enorme notorietà mediatica e personaggio di reality show aveva una notorietà simile kardashian come tipologia dall'italia non si capisce tanto sto fatto e anche per questo si capisce meno come mai sia stato eletto ancorché con 3 milioni di voti in meno rispetto al suo avversario beh questo però è tutto un altro discorso quello che conta è che oggi la visibilità mediatica un elemento determinante della politica però è sempre stato così in realtà semplicemente sono cambiati i media non è che la notorietà di tanti presidenti degli stati uniti o penso compreso lincoln o washington non fosse largamente mediatica com'è che questi sono diventati famosi com'è che la gente si identificava con loro com'è che li considerava delle persone di riferimento assoluto non li avrà magari nemmeno mai visti di persona mai visto in fotografia perché c'erano le fotografie al tempo di alcuni di questi però poi per televisione kennedy quanta mediaticità c'era in kennedy si non era un attore nel senso che non ha mai lavorato come attore che il caso di reagan di schwarzenegger e di altri personaggi appunto in televisione come il caso di tra però comunque esisteva attraverso i giornali racconti le leggende le mitologie le narrazioni tutto quello che poteva essere la mediaticità è sempre stata al centro dell'attività politica e rimane determinante questo è un bel problema per quelli che mancano pur desiderando agire in politica magari essendo molto bravi intelligenti mancano di quell'impatto mediatico che di per sé non significa affatto competenza politica ma che è molto importante per poter arrivare al potere e anche forse per poterlo gestire perché credo che rega si riferisse più alla capacità di somma contarla su mediare fare la parte giusta che non alla notorietà quindi teniamo sempre conto del fatto che può esserci chi con una certa auto ironia avendo avuto un successo strepitoso da un punto di vista politico piace non piace non lo so ma avuto un successo strepitoso e tra l'altro molto più plebiscitario di quanto non ne abbia per esempio trump attualmente ma la domanda da porsi sempre questa come può un presidente non essere un attore